Dopo l'anteprima andata in scena a Roma nell'ambito della prima edizione del Festival di Drammaturgia Contemporanea, lo spettacolo In nome della Madre di Henry De Luca con Galatea Ranzi e con la regia di Gianluca Barbadori debutta stasera alle ore 21 nella Sala Strayler del Teatro Biondo di Palermo, che lo produce in collaborazione con Ponte Tra Culture e Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali. In nome della madre, che replica Palermo fino alla 12 dicembre, è la storia narrata in prima persona di Miriam, una ragazza della Galilea che ha una strana visione nella quale un angelo le annuncia che avrà un figlio e le profetizza per lui un destino di grandezza. Subito dopo, la giovane scopre di essere incinta. Facendo ricorso al linguaggio semplice e terzo della poesia, Henry De Luca racconta la gravidanza di Miriam Maria. Il Talmud, oltre un decennio di studi biblici e gli storici romani, gli forniscono dati preziosi per dare alla sua storia uno sfondo credibile. Ma non è un'urgenza storiografica quello che muove De Luca, piuttosto è il desiderio di raccontare qualcosa che non c'è, una versione laica e poetica della nascita di Gesù. In nome della madre è un testo pieno di grazia che commuove e fa riflettere credenti e laici. La messa in scena intende creare un intimo momento di incontro col pubblico. Miriam Maria, donna ormai adulta che ha accettato con consapevolezza il destino di suo figlio, desidera condividere con noi la sua esperienza personale, senza fronzoli, invitandoci a ritrasmettere il suo messaggio di amore, coraggio e speranza. Grazie a tutti i nostri spettatori